Qualche mese fa abbiamo passato otto notti all'Allegro Chelsea Hotel, senza trovare niente. Beh, così credevamo, però poi in laboratorio, controllando questi nastri. Mi avete fregato? In genere non viene mai nessuno qui e non avevamo mai... Lei è venuta qui a seguirlo? Mai convinto qualcuno ad avvicinare la faccia alla macchina? Bello scherzo, è stato divertente. Fa schifo. E che effetto ti fa se ti dico che non è affatto fatta con la bocca? Smettila. Posso farla dal vivo se vuoi.